Per tanto, per fortuna, abbiamo qui l'autore di quella canzone! Martai! Ma chi è? Martai! Marco Pischi! Marco Pischi! Alla chitarra artistica Marco Pischi, autore di questo bellissimo pezzo che si intitola a questo amore interpretato con riso! Ciamino quei! Buonasera a tutti! Questa me la paghi ora per... Dando questa cosa! Però anche io volevo... Ciao! Volevo anche io spendere due parole per Nicole, credo che la canzone di Nicole sia veramente una canzone bellissima, però mi fermo qui e ti dico soltanto Nicole adesso tu sei pronta per fare un determinato percorso! Buon viaggio! Accompagniamolo con un grande applauso! Poi... C'è una cosa che ho sempre sognato di fare! Applausi! 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 Chi lo sa, cosa significa, una donna che è piena di vita, che resta qua. Anzaci, a quando sei stata più felice di così, quasi mai, forse mai. E sono giorni che volevo dirtelo, non faccio altro che pensare a te, quello che provo poi mi sembra ancora molto comodo. Se ancora hai sintomi di una parvenza d'emozione. A questo amore ti consola e ti fortificare, senza farti stare bene. Questo amore ti tortura e ti mortifica, senza farti stare male mai. La 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 Dami, questo spettacolo, c'è chi recita come si deve e chi non ce la fa. E' la tua scena ma non riesci a dire mai che cosa hai dentro e dire tu chi sei. Ci sono cose che non, non amerai, ma tutto quello che ti porta a stare male ora ha questo amore. E' una cosa imprevedibile che non mi fa più dormire, ma per favore se vai via chiudi la porta e non farti mai vedere. E' una cosa imprevedibile che non mi fa più dormire. Bravi! Bravi Nicola! Io ho finito il mio video di concerto, cioè io ho fatto con la roba... Nicola, tu non è finito, ho iniziato appena adesso. Grazie! 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 Grazie!